Questa prova ce l'abbiamo sia in stereoscopia che in monoscopia. L'esperimento è sempre quello, però l'idea era quella che con un campo di ripresa più ampio, anche se non ha la profondità di campo, possa comunque essere sufficiente a integrare l'audi binaurale. L'ho detto Alberto Angelo, un pochissimo. Ecco, ovviamente, quando mi sentirete da qui, io però mi avvicino a sedere qua di niente, perché ci sarà molto confusione della piazza, ma nonostante la confusione appunto io mi avvicino proprio per dare stesse idee, più o meno ho parlato sempre con la stessa intensità. Ovviamente, certo, in una piazza rumorosa l'effetto mascheramento è evidente. I rumori d'ambiente coprono, a me come la piazzetta di ieri, che era bella silenziosa. Io proverei a fare una panoramica anche con questo sistema. Ma io faccio semplicemente così, un giretto. Roberto e Stefano. Piazza del Popolo in controluce. Lì non si vedrà niente, o quasi. Là sotto abbiamo sempre l'emulo di Michael Jackson. Diciamo che sono già stanco, quindi mi riappoggio a terra. Però proviamo a fare una camminata in mezzo alla gente. Vediamo se qualcuno mi prende a pedate. C'è un girettino da questa parte. C'è del vento. Un c'è un c'è un troppo. Un po' di più. Un c'è un c'è un po' di più. Hanno un c'è un c'è un po' di più. Oh . . . . vi ha un'ambo usato e poi ci sono anche un'ambo e tutto il cammino è tutto il cammino e tutto il cammino di metro è quello che vediamo un'ultima luce e un'acquesta è una torta Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno, mieli pozizio, stanco morto.